Sì, siamo felici perché sappiamo che è una partita importante per noi, perché vogliamo finire la prima del gruppo. Sappiamo che dobbiamo vincere queste partite. Abbiamo fatto una grande partita, credo che eravamo solidi e spero che continuiamo così. Adesso è l'Inter, sappiamo che è una grande partita dura contro una grande squadra, ma dobbiamo fare le cose bene e spero che andiamo a Milano con una mentalità vicente. Dopo le parole del mister che ti hanno spronato, cosa è scattato dentro di te e se magari ti trovi meglio a giocare con due giocatori più dinamici vicino come Cristante e Bove? Sì, sono meglio giocare con due giocatori più dinamici come Bove e Cristante. Sì, sì, ma soprattutto sono un giocatore di squadra, posso giocare a tante posizioni come abbiamo visto oggi. Ho giocato, credo, tre posizioni oggi e per me è buono, mi piace questo. e dove il mister vuole che io gioco, lo faccio, allora basta. Grazie.